Sei a cena a casa e insieme ai tuoi amici. Stai preparando da bere in cucina mentre si avvicina il momento del dessert. Ma nel tuo drink c'è qualcosa di strano. Il liquido si sposta nel bicchiere. I cubetti di ghiaccio si agitano come navi col mare in burrasca. E anche tu lo senti. Il lampadario sul soffitto uscilla paurosamente. Di là qualcuno grida, il terremoto! La casa è tutto quello che contiene ondeggia. Cerchi di ripararti da qualunque parte, ma il tremore è così forte che devi lottare per restare in equilibrio. Tutte le stoviglie, i bicchieri, i piatti si scuotono e cadono in mille pezzi sul pavimento. Cadono i libri e gli scaffali, cadono i quadretti appesi alle pareti. Tutto ondeggia e cade. Trovi riparo sotto il tavolo nella sala da pranzo per evitare cocci e vetri rotti. Ti era già capitato di avvertire un terremoto, ma mai uno così forte. Controlli il telefono ma niente, nessun segnale. Tutto è successo così in fretta che quasi non ci credi. Con un boato assordante, alla fine tutta la casa crolla. Il terremoto più forte mai registrato è quello del 1960 in Cile. Successe di pomeriggio, quando tutti erano fuori a godersi la bella giornata. Per provocare danni seri o addirittura irreparabili, basta un sisma di magnitudo 7 della scala Richter. Quello in Cile fu di magnitudo 9.5. Il Cile si trova lungo una linea di faglia nota come cintura di fuoco, perché lì si concentra la maggiore attività sismica e vulcanica del mondo. La prima scossa durò ben 10 minuti e le scosse di assestamento durarono due giorni, alcune così forti da fare ruttare un vulcano nel sud del paese. Come se non bastasse, il terremoto scatenò anche tremende ondate di marea in tutto il Pacifico, alcune alte fino a 25 metri. Il terremoto e il maremoto furono così forti da provocare danni anche molto lontano, alle Hawaii, in Giappone e nelle Filippine. I danni ammontarono ad un miliardo di dollari dell'epoca. Moltissime persone restarono senza casa e crollarono anche ponti e infrastrutture. Le macerie dei palazzi crollati si estendevano a perdita d'occhio. Gli scienziati stimarono che la potenza del sisma avesse spostato l'intero asse terrestre, rendendo le giornate 1,26 microsecondi più corte. Ti sembra poco, dici? Pensaci meglio. Un unico disastro naturale così forte da influire persino sul tempo. Molte città costiere vennero rase al suolo dal sisma o dal maremoto. L'economia del paese finì in ginocchio. Si è calcolato che se un terremoto simile accadesse oggi, causerebbe danni per oltre 20 miliardi di dollari. Ma se il terremoto fosse addirittura due volte più potente di quello, che succederebbe? Per cominciare lo sentiresti anche a grandissima distanza. Il terremoto cileno scatenò onde di tsunami che arrivarono fino in Cina, Corea, Vietnam e Australia. Con un terremoto due volte più forte, le onde di marea sarebbero due volte più alte. L'altezza di otto giraffe messe una sopra l'altra. Chi vive in zone costiere se ne accorgerebbe subito. Prima le acque si ritirerebbero, così tanto da portare allo scoperto parecchi chilometri di fondale. Di solito è proprio questo il primo segnale di imminente arrivo di un'onda di tsunami. Supponiamo che succeda veramente. Ti abbiamo lasciato sotto le macerie di casa, ma in qualche modo riesci a liberarti e a uscire all'aria aperta. E come te, tante altre persone, perché tutte le case del quartiere sono ridotte come la tua. Cumuli di macerie. Sono crollati anche i ponti e non c'è più modo di andare da una parte all'altra. Ti guardi intorno, spazi via la polvere di dosso e cerchi aiuto. Camion dei pompieri e ambulanze già fanno la spola tra le case e le auto distrutte. Cerchi di raggiungere la tua auto, ma una scossa di assestamento improvvisa ti fa cadere sul marciapiede. Con i ripetitori fuori uso, il tuo telefonino è totalmente inutile. Con le ginocchia che tremano, riesci a rimetterti in piedi e proseguire. Raggiungi la tua auto, ma la trovi schiacciata sotto un masso, come una gigantesca lattina. Procedi a piedi, allora, dirigendoti verso il centro della città. Sembra quasi che un gigante adirato sia passato da lì, sfogandosi su tutti gli edifici. Continui a camminare e a cercare aiuto. All'improvviso il tuo telefonino vibra. Sembra che qui ci sia segnale e dalle notifiche leggi di un terremoto di magnitudo 20. Ricominci a tremare, ma stavolta sei soltanto tu, non c'entra il sisma. Oh oh, senti uno strano rumore in lontananza che si avvicina. E poi lo vedi, un enorme muro d'acqua che arriva dritto verso te. Ancora sotto shock, in cerca di scampo, decidi che c'è solo una cosa da fare. Correre. Nemmeno sai da che parte, ma corri lo stesso. C'è uno tsunami che ti insegue e davanti a te un'infinità di palazzi crollati, con pietre e mattoni sparsi dovunque. Aspetta però, un edificio è rimasto miracolosamente in piedi, ma devi arrivare fin sul tetto per salvarti. Provi l'ascensore, ma non funziona. Ovvio. Allora corri a perdifiato su per le scale, pestando vetri rotti, inciampando in pezzi d'intonaco, ma vai avanti. Ti affacci alla finestra e vedi che l'onda è ormai vicinissima. Ma ce l'hai quasi fatta. Ancora pochi scalini e sarai su... L'acqua irrompe nell'edificio e ti risucchia per almeno due piani. Non riesci a vedere quasi niente, ma sai che devi nuotare verso l'alto. L'acqua però continua a trascinarti giù. Dopo 30 drammatici secondi riesci a sfuggire all'onda e a continuare la tua corsa verso il tetto. Ce la fai per un soffio. E ti lasci cadere senza fiato lì sul duro cemento del tetto. Per ora sei al sicuro. Lo tsunami intanto avanza, devastando la città. Il tuo telefono è zuppo d'acqua e del tutto fuori uso. Dalla sua hai una visuale perfetta su tutta la città, sommersa da acqua e detriti. Poi la terra ritorna di nuovo a tremare. Probabilmente ti conviene restare lì dove sei e aspettare che arrivi un elicottero di soccorso. Ma ecco che un'esplosione improvvisa quasi ti sfonda i timpani e fa tremare la terra ancora di più. In lontananza vedi una nuvola di fumo che si innalza fino a coprire il cielo. Il sole scompare. Ed è allora che vedi i primi lapilli di lava che volano nel cielo, atterrando vicino a te. La colata di lava ben presto arriva in città. Il sisma è stato talmente potente e intenso da spostare in un colpo solo le placche tettoniche del pianeta, facendo fuori uscire enormi quantità di magma in superficie. E col magma anche gas e vapori bollenti. Senti subito il calore. Vedi il magma che ricopre tutto ciò che incontra, divorando strade e auto. Ma ora hai un bel problema. Il magma affonderà le fondamenta dell'edificio in cui ti trovi, che pure era riuscito a resistere sia al sisma che allo tsunami. Altri edifici in lontananza ora stanno crollando, fondendosi con il fiume di lava che ha ormai occupato la tua città. Uno dopo l'altro li vedi sparire. Il che significa... Oh no! Anche l'edificio dove ti trovi comincerà ad oscillare. Di lì a poco crollerà come gli altri. Ma in quel momento vedi una luce. Un elicottero che viene verso di te. Agiti le braccia, fai di tutto per farti vedere. E funziona. L'elicottero ti individua, ti lancia una scala di corda e ti trae in salvo. Al sicuro sull'elicottero puoi osservare meglio il disastro che ha appena colpito la tua città e il mondo sotto di te. I soccorritori ti portano in un centro di raccolta dove i superstiti sono subito ricoverati in un improvviso pronto soccorso. Vi è andata proprio bene. Un anno dopo. Le acque dello tsunami si sono ritirate, la colata di lava si è raffreddata, ma della città non resta più traccia e il paesaggio intero ora è diverso. Il cataclisma ha gettato il paese in una crisi economica da cui impiegherà anni, anzi decenni, per riprendersi. Servono mesi per verificare che non ci siano altri pericoli, come cavi elettrici ancora in tensione o fughe di gas. La tua città viene ricostruita maggiormente nell'entroterra rispetto a dove si trovava. Altre città invece vengono ricostruite direttamente sopra le macerie. Altre ancora vengono abbandonate e i superstiti spostati verso le città vicine.